Oh, benvenuti sul canale del Pellicano, finalmente torniamo con Dragon Ball Z buttock of Inkashi 3, ma con il doppiaggio in italiano, e questa volta ci tocca credo l'ultimo scontro. Ma è forte comunque, rispetto allo scontro con Tao Bye Bye questo qui è proprio su tutt'altro livello. No! Cioè, ha praticamente già vinto? Io ho ancora tantissima vita. Oh, ma il sogno suonesto è incredibile. Non parli più? Che cos'è? Non ti è piaciuto? Voglio vedere fino a che punto arriva la tua potenza. Ma che cosa fa? Non gli è bastato tutto quello che ha visto? Mi devo complimentare con te. Oh, gli fa addirittura i complimenti. Perché? Perché? Per quale ragione? Non continuo a battersi. Hai capito, eh? Se ad opera tutta la mia potenza non mi resterà molto da vivere, te ne sei accorto. Per questo motivo ho cercato di limitarmi, ma quanto sembra non mi resta altra scelta. Ormai manca poco alla tua fine. Non mi fai paura. Sono soddisfatto perché ho capito tutto e so come sconfiggerti. Vorresti farmi credere che nemmeno tu hai usato tutti i tuoi poteri fino ad ora? Chi vuoi prendere in giro, moccioso? Vai, mettimi alla prova. Non piace di me. Ti sei sfogato per bene? Adesso posso iniziarlo io, un attacco vero? No! Merda, proprio adesso mi devo fare questa mossa, questo. Maledetto, mi ha fatto spiegare la mossa finale. Te l'ho fatta, voglio vedere se adesso riesci ancora a muoverti velocemente con quella gamba. Stavo solo rispaldando di non fare la lagna. Ok, se tu non sai che sarò che dovrai pagare per questo affetto, va se mi arrabbi. Sta andando a meraviglia, Goku è decisamente in vantaggio. Questa volta me la pagherai! No! Ah! Ah! Mamma mia! Viva, 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 viva! No! Merda! Guarda la mia vista, non ti sa fare. Ho ancora l'altro braccio! È mai possibile che te ne sei dimenticato? Cosa? Guarda! Zero tutta l'energia che mi rimane! Oh mamma! Ho vinto io! Oh mamma! Genio! Grini! Sono riuscito a vendicarti! Ma se pensi di avermi eliminato, ma tu ti sbagli di grosso! La mia stirpe non è ancora destinata all'estinzione! Ecco mio figlio! In un futuro molto prossimo tornerà a vendicare suo padre! Nessuno può stimpare il male dal mondo! E io direi che per questo episodio possiamo concludere qui! Vedo che nel prossimo scontro... Cioè noi saremo a Rale! Immagino! Beh, ok! Va bene! E niente, io direi che per questo video possiamo concludere qui! Quindi come sempre, se questo video vi è piaciuto, invia a lasciare un like, un commento! E se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale! Attivando anche la campanella delle notifiche! Così rimanete aggiornati su tutti i prossimi video! E noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento! Fada il pellicano e... Ciao ciao!